Allora, siccome il tema, lo sapete, principale, oltre a quello che accade nel governo, è la scuola oggi, perché c'è questo rinvio, ci sono regioni differenti, opinioni differenti, dove a partire il 7 c'è lo slittamento, un braccio di ferro nel governo, è un tema molto delicato, è un tema che riguarda una generazione di cui ci si occupa poco, secondo me, però è una generazione a rischio, noi davvero rischiamo di perdere una generazione. Ci colleghiamo adesso anche con il professore Adolfo Scotto di Luzio dell'Università di Bergamo, storico della pedagogia, che ieri ha fatto un'intervista, intanto buongiorno professore. Buongiorno. Un'intervista alla Verità, dove dice che questa è una generazione perduta e soltanto chi ha i soldi andrà avanti. Parla lei di un forte impoverimento culturale, lo studio è stato messo ai margini da una maggioranza che non si preoccupa delle crescenti differenze sociali, e poi dice che il ministro Azzolina è una figura debole. E mi ha molto colpito, per l'appunto oggi, un'indagine di Save the Children, che dice che il 28% degli adolescenti dichiara che dall'inizio della pandemia almeno un compagno nella propria classe ha smesso di frequentare la scuola. Tra le cause principali, delle assenze durante la DAD, la difficoltà di connessione e la mancanza di concentrazione. Sulla base dei dati dell'indagine, la stima è che almeno 34.000 studenti delle superiori, a causa delle assenze prolungate per questi motivi, potrebbero trovarsi a rischio di abbandono scolastico. Professore, ce ne occupiamo davvero molto poco? Sì, ce ne occupiamo davvero molto poco e ce ne occupiamo molto poco da molti anni. Io, nell'intervista, insistendo sul fatto che questa dismissione della scuola pubblica in Italia non è un fatto recente, quindi non è una questione di quest'ultimo governo. È un ciclo che si è aperto a cominciare dagli anni 90 e che è precipitato nel periodo successivo. Così come è vero che il ministro oggi è una figura debole, ma è debole in quanto ministro, non in quanto ministro Azzolina, perché la figura del ministro è stata svuotata in questi anni di poteri e di prerogative a vantaggio di una spartizione di competenze tra potere centrale dello Stato e enti locali che non ha prodotto dei risultati positivi. I giovani oggi sono esposti su un duplice fronte, innanzitutto sono deboli dal punto di vista demografico, questo è un dato col quale dovremmo prima o poi fare i conti. Ci sono meno di 500 mila nuovi nati. Se lei pensa che nel 1968 soltanto le nuove matricole nell'Università di Parigi erano 500 mila, capisce benissimo quali sono i rapporti di forza oggi tra le generazioni. Questi giovani sono stati spogliati in questi anni di strumenti intellettuali importantissimi per capire il mondo e naturalmente il mondo incompreso, grava come una massa sulla coscienza di questi ragazzi che non hanno proprio come orientarsi e naturalmente questo li spoglia di qualsiasi capacità di azione e quindi anche di costruzione del proprio futuro. Costruire il proprio futuro non è soltanto fare carriera, a parte il fatto che molto pochi di questi ragazzi oggi faranno una carriera soddisfacente, ma è una più generale capacità di agire storicamente nel mondo attuale. Questo è un impoverimento molto forte. Però senta, il ministro Azzolina, che lei ha detto appunto non è in quanto Azzolina debole, ma in quanto ministro figura, insomma quello che si sta facendo, si è sempre battuta per il ritorno a scuola anche durante questa pandemia. Lo stesso ha fatto soprattutto nella prima fase Macron, puntando l'attenzione soprattutto nel pericolo di fatto di diseguaglianze poi sempre più marcate. È vero che ci portiamo dietro negli anni alcune, tante mancanze, tante carenze nel mondo della scuola, ma quando lei dice così, in questo modo, andranno avanti i ricchi, è qualcosa che davvero è di rimettere ed è qualcosa che ha a che fare con l'oggi? Sì, questo ha a che fare con l'oggi, ha a che fare con, diciamo così, l'indebolimento della scuola pubblica, come luogo nel quale si selezionano i talenti, che naturalmente non sono legati allo status familiare, sono una dotazione naturale delle persone, ma che restano inespressi nel momento in cui non trovano una scuola che sia in grado di coltivarli. E' una scuola che, come dire, oggi il fatto che i ragazzi non vadano a scuola significa che questi ragazzi vengano restituiti alle differenze delle loro famiglie di provenienza. Ci sono una quantità di giovani inimmaginabile che non hanno accesso alla rete, non hanno computer a disposizione e questo ricalca purtroppo le differenze storiche del paese. Non è soltanto la differenza tra ceti abbienti e ceti poveri, ma è la differenza spaventosa tra il nord e il sud del paese. A Napoli ci sono interi quartieri dove quei ragazzi continuano faticosamente a collegarsi con i propri insegnati. Lo fanno con il cellulare. Certo. Con il cellulare. Lei capisce cosa significa stare quattro ore davanti a un cellulare? Provi a immaginare un bambino delle scuole elementari che deve collegarsi con il cellulare. È impensabile che in questo modo la scuola assolva la sua funzione, che è una funzione politica, non soltanto una funzione economico-sociale, ma una funzione politica, la qualificazione culturale del rapporto politico tra il cittadino e le istituzioni. Senta, perché non si parla praticamente mai dell'università? Perché lì tutto funziona o perché c'è un tipo di approccio diverso dei ragazzi perché sono più grandi, ma anche degli insegnanti che magari fanno anche meno resistenza su alcuni punti che invece accadono? Non va sottovalutato che avere vent'anni e averne otto è una differenza enorme. E l'università ha reagito come ha reagito la scuola al suo meglio, nel senso che nel giro di pochissimi giorni centinaia di migliaia di ore di lezione sono state erogate online. Naturalmente anche questo è un problema perché anche sul piano universitario valgono le questioni di cui parlavamo prima, valgono le diseguaglianze, valgono le differenze. Anche a vent'anni si possono avere problemi seri nell'accesso alla rete. Oltre al fatto che l'università è una comunità intellettuale, quindi vive essenzialmente di scambi, di contatti. Quando noi rendiamo rarefatti questi scambi è chiaro che tutto il contesto si impoverisce progressivamente. Io credo che il ragionamento l'ha fatto in termini di sistema paese. Un paese che dismette in questa maniera le proprie istituzioni formative è un paese che si prepara fra 10, 15, 20 anni ad essere in una condizione peggiore di quella in cui versa oggi. E oggi le cose non vanno molto bene. Provate a immaginare fra 10 anni con una generazione che ha vissuto questo anno che diventano due di impoverimento culturale e si somma a un periodo precedente che non era certo dei più floridi, dal punto di vista proprio degli apprendimenti delle giovani generazioni. Ecco, detto ciò, Verini, perché investire... Verini, perché investire...